Buongiorno, 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 buongiorno comandante, comandante. Perché sulla sicurezza in mare, in strada, in volo non si deve derogare e la condizione della Costa Concordia, così come è stata tirata su qualche giorno fa, lo dimostra. Su quella sicurezza non si può derogare. Altri episodi erano stati già oggetto di cose simili, diciamo. E sempre con un unico, per così dire, regista, tra virgolette, Costa Crociere. Noi riteniamo sì che sia sicuramente opportuno e, devo dire, imprescindibile, sembra prescindere anche da ogni altra argomentazione, un naufragio di questa rilevanza, un processo di questa rilevanza, senza che nessuno abbia messo un piede di coloro che sono stati chiamati a effettuare, a compiere indagini e valutazioni, sembra una cosa, insomma, abbastanza difficile da accettare. Io credo che la perizia all'incidente probatorio sia stato esaustivo sotto tutti i profili. Vediamo, il Tribunale ha deciso di risentire i periti per decidere con piena cognizione di causa sulle istanze che sono state fatte. Credo che non resti che sentire le risposte dei periti e poi la valutazione del Tribunale in merito. Grazie.